Il falò è pronto. Mortora mantiene fede alla sua tradizione. Per Santa Lucia un bel falò. Piovigina però si può fare. Qui sono pronti. C'è un abbraccio bellissimo che arde. Peppe buonasera ai fornelli. È giusto il momento giusto. Eh sì ho visto che vi state dando da fare. Buonasera a tutti. Buonasera. Questa è la mitica del Positano Nus. Tra cinque minuti siamo in onda. L'hai diretta? Già fatta la diretta sul falò. Nonostante il cattivo tempo. La nostra piccola mortola. E dobbiamo dire grazie ai nostri operatori che ci mettano in queste condizioni di fare espandere questa bella voce. Ma avete fatto un falò che è la fine del mondo. Guarda. È proprio bello. Peppe? Chi è il fuochista? Peppe? 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 Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Peppe vieni. Vieni che sta vinendo in diretta. Vieni. Non stiamo in diretta. Buonasera. Bellissimo questo falò che avete fatto. E lui è stato il creatore di questa situazione. La sta portando da anni. 15 anni. Sono 15 anni e si può dichiarare il cuore della festa. Ecco qua. Un cuore così grande. È stato un cuore così grande. Ma questo è poco. Ieri sera all'accensione era una cosa spettacolare. Ma anche questo è bello. Il nostro parroco è stato il primo anno che è stato con noi. È rimasto entusiasta? Bene. Come diceva puritanamente? A bocca aperta. Allora, com'è andata? Tra ieri sera e stasera prevediamo? Tutto bello, tutto bello. Grande partecipazione, tutto. Fuoco bello, tutto. Stasera il tema è un po' inglamente, però. Però la gente verrà. Noi ci crediamo. Ci crediamo. Sicuramente. E il calore del fuoco deve fermare la pioggia. La serata è stata alliedata dal nostro mitico Gianni Acarino. E stasera c'è Carmerina. Un spettacolo. Bellissimo. E allora... Eccolo anche qui, questa è un'altra creatrice. Ciao. Perché dentro c'è il reparto donne. Vogliamo andare? Certo. Ve lo presentiamo. Questo è il reparto donne. Il reparto delle signore. Che bello, il falò di Santa Lucia. Dedicano passione. Ma c'hanno anche un aiutante maschio qua. Buonasera a tutte. E' la carta culinaria. E' questa cosa. La nostra chiesa è vino. E' tutta Gianluina. Bellissimo. Questo mi piace di più, questo reparto. Patatine. Patatine ancora. Però di là, vedo una cosa. Sono zeppole. Le zeppoline. Le signore sono le gineve le zeppole. Allora dobbiamo assaggiarle. Le chiamano le zeppole. Mmm. Le zeppole. Sono esquisite. Come vi chiamate? Eh, i nomi. Eh, i nomi. Anna Maria. Facci vedere. Oh, come che non conosciamo Anna Maria? E io e Teresa. Maria. Ciao. Angela. Angela. Ed è Salva. Signor Franco che... La pasticceria prima... Eh, vabbè, 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 scusate. Franco e Valentino. Ah, Franco e Valentino. Come no? Agnese. Zia Rosetta. Lei ha detto Zia Rosetta. Zia Rosetta? Fatti vedere. Che cosa hai preparato? Che hai preparato? Che è scuola. Che è scuola. Presidente, come si comportano queste signore? Benissimo. Le promuoviamo, le promuoviamo? No, signor Presidente. E' in barroco. Ma ora ci spostiamo da quest'altra parte. Ma mi spostiamo le gambe. Agnese, no, a qui, a qui, a qui. Questo è un altro reparto. Ragazzi, buonasera. Buonasera. Stiamo a fare una diretta. Che state preparando? Stiamo facendo la diretta, solo così, andiamo via. Sono i nomi. Alessio. Alessio. Ciao, buon lavoro, ragazzi. Ci vediamo dopo fuori. Mi lasciamo il lavoro a voi. E qui sono i junior. Qui sono i più piccolini. Salve, grazie. Dove le piccoline? Eccola qua. Grazie. Questa è la nostra Carmelina. Eccomi, la conosciamo Carmelina. Ciao. Buonasera. Che stai preparando? Allora, stiamo preparando la fantastica serata di stasera, che sarà tutta incentrata sul Natale. Quindi, mi raccomando, bambini, venite. Ci sono un sacco di premi, soprattutto anche per voi, ma per tutto, adulti, anziani. Stiamo insieme, in compagnia, come una famiglia. Ci riuniremo intorno a questo palo, faremo Natale insieme. Grazie. Niente che la pioggia ci fermerà. Niente, niente. Ragazzi, ciao a tutti. Ciao. Ci sarà una mica tombolata nel canto in fiera. Canti, poi, sì, e la famiglia. E' fantastica. E' fantastica, è piena di energia. Grazie. Grazie.